buongiorno fiorelli fiorelli stiamo andando a camminare sto andando da sola con voi a camminare vediamo se a soli 6 e 37 se aprono è aperto il parco perché un po di vero non c'è il gatto ciao bellissimo ciao bellissimo buongiorno è bello quanto si è bella si è femminuccia sei femminuccia miso misina e va bene ma faccio far iniziare la sigla e vi do l'aggiornamento di ieri del criceto del criceto via la sigla ecco sono ritornata ogni giorno mi crescono un botto capite vabbè comunque sempre aperto si ieri vi ho detto del criceto mia figlia mia nipote per me ancora non è adatta per gli animaletti è aperto il parco si e niente abbiamo cercato 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 infatti ieri vi ho detto al video che non ho tanto tempo da registrare stamattina non ho da fare ma adesso a quest'ora e allora sto andando a camminare ciò da fa dopo quando verso le 9 le mattina perché non da giù da dottore a civita castellana bene ho messo il pieno tanto ieri perciò posso andarci e poi sabato da mia sorella poi vado a perugia da mia sorella beh prima di perugia oggi passiamo su invece andare giù qua passiamo su qua facciamo subito la salita io giusto a camminare perché di più non ci riesco a camminare perché di più non ci riesco a camminare perché non ci riesco a camminare perché lei si era presa questo porcellino che gli aveva comprato la madre alla fiera ha pagato 20 euro ha detto il porcellino in siera e niente c'è la cabietta c'è quel coso che gira roba così invece la doveva sempre prendere fuori doveva prendere fuori gli ho detto da metterlo alto perciò l'abbiamo trovato crescendo ha riguardato lì mia figlia la madre di nicole e stava dietro un cucciolo a dormire perché lei non lo faceva dormire lo tirava fuori e poi gli arrivava da mangiare e vede come faceva il verso detto appare c'è quattro anni insomma c'è sapesse a dormire e sta crescendo e scappato perché tutto ieri e dai e fastidio sarà soffato ma carino quando l'ha messo dentro è carinissimo ma anche aggressivo no io penso che sembra un utopi sembrava aggressivo invece no è super carino piccolino carino quando l'avevo trovato e dentro subito si è messo a mangiare c'aveva fame c'aveva sete perché io penso che questi animaletti quadro non sta dentro la gabbia e lì ti lascia perdere non gli devi rompe quando c'è suono deve dormire quando c'è fame mangia poi si è messo a correre però l'avevo messo dentro carino quello che gira 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 si è messo a correre lì che brachella ha detto che è un gioco ci giocano con quel sento che gira gira e comunque siamo stati così contenti perché noi siamo amanti animali e io quello siamo amanti animali e sono cresciute le mie figlie che li amano tanto io ho fatto pure il fiatore e troffa salita e io facevo la protezione animale quando ero piccola come dico sempre stavo stavo sempre con prete lì e andiamo a fare a corte dei cartoni che li vendevamo pagare non so che ci pagavamo ma anche mi ricordo facevamo cose di cartone per aiutare le persone che avevano i soldi mi sa che dopo facevamo i soldi o quelle cose lì e prete gli dava i soldi alle persone che non avevano i soldi una cosa del genere poi davamo aiutare le persone d'home facevamo compagnia e io c'avevo uno mi sa che penso non c'è più era grande l'ho incontrata parretti anni fa già da ancora era vecchio e mi aveva detto che era che riassembliava a me di quanto ero ragazza io gli faceva aveva emozione questa cosa perché se ricordava di me io c'è stato tanti anni ma non che lavoravo tramite chiesa tramite questo prete che non ci sarà più questo prete che ci mandavano i ragazzi volontari così andavamo da queste persone qua io sapevo questo qua perché io abitavo nelle vicinanze e mi avevano dato quello lì che stava vicino all'ospedale perché io abitavo vicino all'ospedale e niente mi sono stata contenta di averlo visto però penso che ora non c'è più e vabbè comunque belle cose ho fatto da ragazza adesso non faccio più niente mamma mia e mi piacerebbe di fare però comunque basta le persone non sono le già ci sono tutte persone che ci lavorano roba così perché ho fatto pure la batante da ragazza e vabbè comunque mi sto morendo di abbraccio perché mi si è rotto qualcosa un mese fa mi si è rotto dopo una settimana che cosa di che mi arriva così vabbè io adesso vi lascio perché finisco a fare il giro c'ho pure più fiato per parlare e se più parlare per camminare e vabbè comunque mi si è allungato tantissimo capite tantissimo per il parrucchiero mi ha detto mamma mia deve essere allungato della compagna uguale la moglie non so che è se è compagna moglie e ha detto sono allungato un botto i capelli mo' a dicembre fa due mesi perché siamo quasi finire a settembre stiamo a 19 oggi mi so penso che per settembre già un mese piacerevo leggermente la ricrescita io la vedo non perché si vede la ricrescita ma perché mi vengono i capelli bianchi e quando passavo asciugati i capelli a volte era sabato e ho visto che luccicava un po' perché i capelli bianchi luccicano infatti ecco è già stato a crescere ma neanche un mese è il 5 ottobre dovrebbe essere un mese vabbè comunque e vabbè comunque adesso vi lascio ciao a dopo quando usciamo dal parco ciao ecco adesso sono uscita dal parco ho fatto un po' di giri e sono uscita dal parco e adesso andiamo qua ecco 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 qua mondo sono entrato puisse piaccio più giu e stiamo andando fuori e faccio un giro e vado a casa dopo almeno faccio un po di tempo di camminata adesso siamo arrivati quasi le 7 faccio un giro e vado a casa e vado sulla salita dove vado quando vado a malaposta per adesso ciao ecco sto ancora camminando sto camminando su uno scalino che non ho qui a tanta confusione perché c'è questa strada sto vicino a quella farmacia e faccio la salita vado a casa per ora ciao vi faccio vedere fra un po ecco adesso sto facendo la salita quella solita salita e quando vado la posta andiamo su ci vediamo quando siamo arrivati fuori casa ecco pure oggi abbiamo finito a fare la passeggiatina io spero che vi ho fatto campagna e ciao al prossimo video ciao 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 gully 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 Grazie per la visione!